Ringrazio Alessandra, senatrice Alessandra Maiorino per questa iniziativa, c'è anche Bilotti che fa parte anche lei del Comitato per i diritti civili e politiche di genere che sono anche al centro della nostra azione politica. Quindi è un'iniziativa questa che rientra pienamente nel quadro delle sensibilità, delle azioni, iniziative politiche che portiamo avanti anche come comunità politica, come Movimento 5 Stelle. Io ho conosciuto Luca un po' di anni fa e anch'io visitai la casa di Matteo, credo che l'abbiate girata lì e quindi anch'io fui, la mia è stata una visita che è durata poco, nella breve economia di un'oretta, ricordo a memoria, di un pomeriggio, qualche ora forse. Però chiaramente l'impressione è stata fortissima, insomma, vedere un'attività, quella messa in piedi da Luca con grande coraggio, determinazione, con impegno, capacità organizzativa, vedere a ruota libera Onlus, così si chiama la sua struttura associativa. Vedere la capacità di mettere su in piedi questa struttura dedicata ad assistere bambini con disabilità che sono pressoché abbandonati perché richiedono assistenza 24 su 24. Sono bambini che avrebbero poche ore di vita se non ci fosse questo sforzo organizzativo, questa assistenza continua. E vedere anche del personale, anche che volontariamente vi si dedica e tiene su questa struttura, li mantiene in vita e veramente ci fa capire come delle volte ci dedichiamo, ahimè, a questioni di marginale importanza che ci occupano per lo più le giornate. Luca poi ha iniziato un percorso con noi anche politico e la ragione anche per cui è adesso assessore al welfare al Comune di Napoli e quindi c'è stata da noi la piena condivisione del suo progetto, la piena volontà e determinazione di dargli una maggior risonanza, di moltiplicare l'efficacia della sua iniziativa e del suo gesto. Ma sicuramente forse non riusciamo ad avere questo effetto che invece può avere il cinema perché col vostro intervento, quindi mi ha fatto piacere anche sentire il regista e gli attori, è chiaro che riuscire addirittura a tradurre cinematograficamente questa storia potrà avere un effetto moltiplicatore di quella che è questa esperienza e tutto il significato politico, economico, sociale, culturale e valoriale di questa esperienza. L'avete già riassunto, io non aggiungo nulla perché ormai gli esperti siete voi, però è chiaro che qui c'è una legislazione inadeguata e questo ci chiama direttamente in causa, quindi ben venga che ci sia una proiezione anche in una sede ufficiale del Senato, al Senato qui, della Repubblica. C'è una legislazione inadeguata ma c'è una sensibilità culturale ancora retrata evidentemente perché poi lo dico da giurista, la legge può anche confezionare degli interventi normativi particolarmente avanzati ma il problema è come si sedimentano, è l'applicazione che conta, non la norma, non la disposizione formale. E quindi evidentemente siccome in quel provvedimento legislativo del 1983 c'è ancora la possibilità di adottare in casi eccezionali, straordinari, di uscire fuori dalla regola tradizionale, cioè l'adozione da parte di due genitori tra virgolette legati in costanza di matrimonio, ma il fatto che non venga applicato vuol dire che c'è un problema culturale e quando parliamo di un problema culturale parliamo di tutte le componette della società, anche del ceto dei giuristi, avvocati, magistrati, operatori che evidentemente potrebbero fare di più e non fanno. Quindi non dobbiamo discutere affatto un intervento legislativo, un intervento legislativo perché in questo film e in questa storia ci sono tanti valori in gioco. C'è la ricchezza che ci possono portare le persone diversamente abili. Io non dimentico mai quando parlo in famiglie che hanno persone che hanno un'abilità diversa, ci restituiscono sempre una ricchezza umana di esperienza ed è incredibile, è incredibile pur rispetto alla vita di sacrificio molto spesso perché è chiaro che delle volte diciamo sempre che vicino a una persona che richiede assistenza c'è qualcuno che evidentemente si sacrifica e gli sta vicino, però in termini di ricchezza spirituale che ne ricevono è incomparabile e da questo punto di vista Alba ha arricchito la vita di Luca, Alba, questa bimba con sindrome Down, che vedete all'origine c'è stato il rifiuto, il rifiuto della madre e poi invece c'è il riconoscimento da parte di un padre, di un padre che si è arricchito da questo apporto di vita. Poi c'è il tema del single che adotta, single omosessuale, insomma è una storia questa che sfida tantissimi tabù, tantissimi tabù e che ci restituisce l'esperienza della ricchezza della vita che è molto al di là delle nostre finitezze umane, delle nostre limitatezze, quindi da questo punto di vista noi come che abbiamo una responsabilità politica non dobbiamo fare altro che correre dietro alla società che ci presenta dei casi che sono molto più avanti rispetto a quelli che sono i dati formali di legge o le convenzioni tradizionali culturali e morali e noi cercheremo di stare dietro a tutto questo. Grazie. Grazie.